Ha riaperto la chiesa di Santo Spirito a Castelbaronia dopo lunghi 50 anni alla presenza del Vescovo Monsignor Sergio Melillo e di un bagno di fedeli che hanno atteso questo momento con infinita gioia. Grande soddisfazione è stata attestata dal Presidente della Comunità Montana Famiglietti e dal Sindaco Felice Martone. E' festa per Castelbaronia, dopo 50 anni abbiamo ripreso questo gioiello e siamo veramente contenti. Da oltre 12 anni, da quando sono stato eletto sindaco, con il vice sindaco, attuale sindaco, ci siamo impegnati per arrivare a questo giorno ed oggi è una grande gioia. E' un momento che aspettavamo da oltre 50 anni, è un tesoro che appartiene a tutta la comunità e purtroppo è rimasto chiuso per tanti anni e quindi non conosciuto ai più. Il luogo di culto detiene al proprio interno numerose opere di straordinaria fattezza, ma dopo il terremoto del 1962 e quello dell'80, che ne ha poi decretato la catastrofe totale del monumento, il luogo di culto è stato chiuso ai fedeli per oltre 50 anni, ma finalmente ieri ha riaperto. Esposte le opere barocche presso l'antica dogana di Atripalda, si possono ora nuovamente ammirare le bellezze che la Chiesa di Santo Spirito custode. La ricostruzione avvenuta dopo anni di ritardi è stata portata finalmente a conclusione.